Nuovi fondi in arrivo per interventi collegati alle attività di pesca e acquacoltura nei porticcioli Liguri. Dopo i 900.000 euro del primo bando legato al Fondo Europeo per la Politica Marittima e della Pesca, si aggiungono ulteriori 800.000 euro con il secondo bando. La misura sostiene investimenti finalizzati a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini, con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro. Nel Genovese nel primo bando sono tre i progetti finanziati con 435.000 euro. In provincia di Savona nel primo bando sono invece cinque i progetti finanziati con 368.000 euro, cui si aggiungono le risorse del secondo bando per cinque progetti e un totale di circa 608.000 euro. In provincia di Imperia infine nel primo bando è stato finanziato con 86.000 euro l'intervento per la promozione della pesca sostenibile nel comune di Armaditaggia, mentre nel secondo bando sono state finanziate con 156.000 euro le opere a sostegno dell'attività ittica nel porto del comune di Bordighera.